Siamo qui, Ampas è qui a Borgotaro, una edizione particolare perché avviene nei 120 anni delle celebrazioni dell'attività unitaria di Ampas, ma soprattutto perché è un'edizione che ha accolto una quantità veramente grande di persone, di partecipanti, 24 squadre partecipanti, alcune delle quali giovanissime che andranno a confrontarsi con altre squadre del torneo sanitario europeo della nostra rete internazionale Samaritan. Tante persone, tanti giovani si sono preparati ovviamente per questo confronto che è un confronto di aggregazione, un confronto di crescita, ma che allo stesso tempo è un confronto che vuole vedere anche sviluppare, accrescere le competenze dei nostri volontari dei nostri soccorritori. Zona Lucchese, Lucca! Sentitevi parte di un progetto davvero grande, siatene veramente orgogliosi.